Buon pomeriggio dal Casino Perla di Nova Goriza qui in Slovenia. Tra poco comincerà il Day 1A del nuovo evento, il numero 8 delle ESOP Season 2015-2016. Siamo all'interno della Poker Room del Casino Perla ed è cominciato da pochissimo il Day 1A dell'evento numero 8 delle ESOP Season 2015-2016. Il field è già molto ben attrezzato, ci sono moltissimi giocatori importanti, ricordiamo tra i tanti Giorgio Silvestrin, Marcello Mignucchi, Francesco Zollo e il fresco vincitore dell'ultimo ESOP Evento 7, Antonio San Nicola. Alle ore 21 comincerà anche l'evento di OMA, un evento molto seguito nelle edizioni precedenti. Vi daremo gli aggiornamenti più tardi e vi accompagneremo fino alla fine del Day 1A con il CP Leader della giornata. Grazie per la visione!